Lavoro in corso nella zona della stazione di Figline, infatti è stato aperto da qualche giorno il cantiere per la realizzazione di uno svincolo in via Don Mazzolari. Lo svincolo è un intervento molto atteso per migliorare la viabilità nell'area della stazione ferroviaria in cui soprattutto nelle ore di punta il traffico è spesso congestionato. Via Don Mazzolari con via Pertini in qualche modo permette un'uscita verso il lato del ponte sull'Arno, quindi verso la rotonda, che aiuterà molto a defluire il traffico. Oltre a questa c'è una messa in sicurezza di tutta l'area e anche due nuove piste ciclabili verso Firenze, quindi insomma un'operazione che migliora la viabilità ma anche la vivibilità. L'importo dei lavori è di 125.000 euro e si prevede che l'opera sia terminata ad ottobre. Nell'occasione sarà anche implementato l'impianto di illuminazione. Per rendere più sicura tutta l'area saranno posizionate delle barriere a protezione della rampa che si affaccerà su via Pertini, cioè sulla Variantina. Lo svincolo su via Mazzolari dovrebbe risolvere un po' col traffico che grava sulla zona negli orari di arrivo dei treni più usati dai pendolari, che ogni giorno giungono a migliaia da tutto il Val d'Arno. Grazie.